Grazie a tutti C'è un uomo vestito da pollo Ciao, è un pollo Ciao pollo I piccoli omosessuali sono sgridati dal capo omosessuale Guardate, c'è la polizia perché i cattolici hanno deciso di venire contro i gay Per dire che sono figli di satana Tutti i gay sono figli di satana, guardate C'è la polizia che non demorde Stanno cantando le canzoni di chiesa Ma quelli dietro sono ancora quelli del gay Sono ancora quelli del gay pride Cosa stanno facendo? Aspetta, voglio vedere loro, cosa fanno? Sono nudi? Spostati poliziotto che non riesco a far vedere il tizio nudo dietro C'è un ragazzo nudo Eccolo, è un ragazzo nudo, guardate il ragazzo nudo Ci sono le voci, sì, che bello! Sono emozionata! Guardate, sono i cristiani, sono tutti distesi Anche i giovani Anche i giovani Loro si divertono pure, guardano il cellulare Ma cosa guarda il cellulare? Questi qua sono i cristiani che stanno bloccando la parata La parata? Sono troppo seri i coreani, ragazzi Guardateli, eccoli, guardateli Loro sono quelli che fermano la parata E che vengono cacciati uno a uno dalla polizia Sì, è successo qualcosa, stanno litigando, si stanno prendendo a pugni Cattolici, se ne stanno mettendo travesti, stanno per essere trascinati via Sì, è che cazzo nudo Vai a casa! Sì, è che cazzo nudo 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 Sì, vai a casa domani alla tua famiglia Invece di stare qui ad odiare Traduzione simultanea Stanno tutti pregando? Abbiamo una cattolica che sta cercando di pregare e portare Dio a salvare le anime di questi poveri peccatori Guardatela, è lei, quella in verde Guardatela come porta Dio nelle anime di tutti Butta via la bottiglia dopo che una ragazza O si picchia? Ha detto che è morta Ok, questa giovane donna che sta cercando di portare Dio a salvare le anime dei poveri peccatori Una ragazza gentile, una ragazza lesbica gentile le ha regalato una bottiglietta d'acqua E lei è arrabbiata E si sta urlandole dietro in questo momento La bottiglia d'acqua è stata lanciata nelle teste dei poveri omosessuali Guardatela lei come porta Dio a salvare le anime di questi peccatori Questa protesta è molto accesa Lui non si sa che cosa stia facendo qui Ma quello chi è? Non so se sia contro Ce la possiamo fare, rimarremo qui I cattolici non se ne vanno a casa La polizia è lì, cerca di fermarli Ma noi dobbiamo rimanere qui Riuscirete a stare qui con noi, sì Questo è il Gay Pride di Seoul a Shincheon Con i cristiani che sono arrabbiati e cercano di fermare la marcia, la manifestazione Questo è tutto, la Persi in Corea oggi è 7 giugno del 2014 Sono le 9 e andiamo a mangiare Buon divertimento a tutti Salutiamo anche questa ragazza tatuata Brava